Quest'oggi vado a rispondere a una delle domande più frequenti, soprattutto quando si avvicina alla fine dell'anno e quando arriviamo all'inizio dell'anno nuovo. Esatto, perché nei periodi di festa, nei momenti in cui spendiamo più soldi per festeggiare, per stare con le persone con le quali stiamo bene, con le persone che amiamo, iniziano a subentrare anche tutta quanta una serie di sensi di colpa per i soldi che stiamo spendendo. E una delle domande più frequenti che mi sta arrivando in questi giorni in privato attraverso le mail è quella di Come posso garantire il futuro di mio figlio? Come posso risparmiare per il futuro dei miei figli? Come posso creare un futuro per i miei figli? Ed allora continuo a guardare tutto quanto il video dove cercherò di dare qualche spunto utile. Prima di entrare però nel dettaglio di questo video, come al solito mi presento per chi ancora non mi conoscesse. Io sono Daniele Stroppiana e sono il fondatore del progetto Assicuratore Senza Sorprese, un progetto che è nato per stare vicino alle persone, famiglie, imprese e libri professionisti, e per proteggere da quelle che io chiamo brutte sorprese, ovvero quegli imprevisti della vita che purtroppo possono sempre capitare e che nel momento in cui si verificano rischiano di rovinare economicamente non solo una persona ma famiglie intere. Attraverso le assicurazioni è possibile tutelarsi da questi rischi nel momento in cui si verificano ed allora attraverso i miei canali social da sempre dal 2013 ho iniziato ad informare il maggior numero di persone e soprattutto attraverso il mio canale YouTube al quale ti invito ad iscriverti qui sotto attivando la campanellina pubblico tre video alla settimana per aiutare appunto le persone a sensibilizzarsi in autonomia e quando questo non basta sempre qui sotto in descrizione trovi il link per potermi contattare e poter richiedere la tua consulenza personalizzata dove riceverai poi un tuo report con la tua situazione e con tutte le eventuali soluzioni che deciderai se e come andare a stipulare e se farle con me o con qualcun altro. Dopo le dovute presentazioni posso adesso entrare un po' più nel dettaglio rispetto a quello che è l'argomento di oggi come garantire un futuro a mio figlio? Come posso creare un futuro a mio figlio? Come posso risparmiare dei soldi a mio figlio? Ecco a quest'ultima domanda ho risposto in due video che ti faccio apparire qui sopra nelle schede e che ti invito successivamente poi ad andare a vedere ovvero al come mettere da parte dei soldi quanti e quali sono gli strumenti finanziari e assicurativi che puoi sfruttare ad oggi per andare a risparmiare per tuo figlio, tua figlia o per i tuoi figli. Il tema però che vado ad approfondire quest'oggi è la prima domanda ovvero come posso garantire e come posso creare un futuro per mio figlio? Il fatto di voler garantire un futuro per il proprio figlio non significa solamente mettere da parte i soldi ma significa in realtà tutelarsi in qualunque modo da qualunque rischio proprio quei rischi di cui parlavo prima nella mia presentazione che qualora dovesse accadere andrebbe così a rovinare del tutto quelli che sono i piani che tutti quanti facciamo sui nostri figli. Pensa che al momento in cui sto facendo questo video, non so poi quando lo pubblicherò mia figlia non è ancora nata. Ciò nonostante io e la mia compagna abbiamo già fatto un mucchio di progetti per lei abbiamo già destinato delle cifre che andremo a risparmiare successivamente per lei abbiamo già deciso che faremo degli investimenti per modificare delle cose all'interno della casa insomma tutti quanti i nostri ragionamenti sono cambiati in funzione di quella che è il voler garantire un bel futuro alla nostra figlia. E questo effettivamente è quello che accade sempre da parte di tutte quante le centinaia di famiglie che seguo ormai dal 2013. Quello che però spesso e volentieri tutti quanti andiamo a sottovalutare è appunto il fatto che da qui a quando nostra figlia o nostro figlio sarà grande ci sono un mucchio di anni. Ci sono un mucchio di anni nei quali non basta che noi mettiamo da parte dei soldi per dargli poi la possibilità di avere qualche soldino per avviare la propria carriera poter studiare all'estero e così via. Non basta purtroppo perché per poter davvero garantire il futuro dei nostri figli da qualunque imprevisto possa capitare loro o a noi in realtà quello che dobbiamo fare è andare a analizzare e ragionare su quelle che sono le fondamenta della casa dei rischi. Ti metto qui sopra la scheda dove andare a vedere poi questo video del quale ti sto parlando se non l'hai mai visto prima dove vedrai sia i bisogni che tutti quanti le persone hanno che quelli che sono i rischi che tutte quante le persone corrono poi a seconda dell'età, della professione, del nucleo familiare questi rischi saranno più o meno grandi e questi bisogni a livello economico saranno più o meno grandi a seconda di quello che hai fatto fino ad oggi. E allora il ragionamento va spostato sull'oggi non tanto sul domani perché se davvero vuoi garantire il futuro di tuo figlio o di tua figlia o hai più di un figlio e quindi dei tuoi figli se davvero tu vuoi tutelare quel futuro se davvero vuoi essere certo o certa di riuscire a creare un futuro per i tuoi figli allora le prime operazioni che devi fare sono quelle di proteggere te stesso o te stessa e il tuo partner o la tua partner perché se venite a mancare voi due o se succede qualcosa al vostro reddito è in quel momento che il futuro di vostro figlio o dei vostri figli non sarà più garantito ma verrà messo a repentaglio nonostante tutte quelle buone azioni che potrete aver fatto per mettere da parte qualche soldino. Bene ti ho dato uno spunto che secondo me va approfondito in tanti altri video e ti prometto che lo farò e inoltre ti anticipo già che sta uscendo se già non è uscito il nuovo videocorso che ho lanciato a fine 2021 dal titolo proprio Come garantire il futuro di tuo figlio un videocorso che è nato da tutte le domande che ho ricevuto negli anni precedenti e che nel momento in cui anch'io sono diventato o meglio sto diventando genitore ho pensato di dover e voler condividere con tutte le persone che mi seguono sui miei canali trovi il link per accedere al videocorso ai video bonus e poi per acquistare successivamente il videocorso qui sotto in descrizione ti invito naturalmente ad andare a dare un'occhiata del resto ricevi i video bonus totalmente gratuiti e solo successivamente deciderai se acquistare il videocorso oppure decidere direttamente di saltare la parte del videocorso e contattarmi per avere la tua analisi il tuo report personalizzato dal nome Vita Protetta Senza Sorprese e per verificare insieme qual è la tua o la vostra situazione ad oggi e capire se e come e con chi andare a stipulare delle soluzioni assicurative in modo da riuscire davvero a garantire un futuro a tuo figlio, tua figlia o ai tuoi figli a me non resta che salutarti e come sempre ti do appuntamento al prossimo video ciao